Se ti piace creare e personalizzare le tue penne, non perderti il laboratorio delle penne di Clementoni. Con questo kit potrai realizzare penne colorate e profumate, con glitter e decorazioni. Un regalo originale e divertente per i tuoi amici o per te stesso. Disponibili in negozio e sul nostro sito.